Radio Radicale, siamo con Ilenia Lucaselli di Fratelli Italia, membro della Commissione Bilancio di Montecitorio per parlare con lei della legge di bilancio che si sta portando dietro anche un sacco di implicazioni politiche. La cosa più grave delle ultime ore sono state queste minacce alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul reddito di cittadinanza. Allora, che cosa dovrebbero fare a questo punto le opposizioni anche per stemperare il clima considerando che voi non state abolendo il reddito di cittadinanza ma lo state riformando per permettere di rianimare il mercato del lavoro? Innanzitutto le opposizioni dovrebbero iniziare a raccontare la verità piuttosto che utilizzare questo tema come bandiera elettorale perché le piazze e gli animi diciamo più violenti sono stati animati proprio dal racconto fatto soprattutto dal Movimento 5 Stelle che continua a dire che noi aboliamo il reddito di cittadinanza e rimettiamo per la strada gente che non ha la possibilità di lavorare cosa che non è assolutamente vera. Noi continuiamo a proteggere coloro i quali non hanno la possibilità reale di lavorare ma contemporaneamente cerchiamo di rimettere nel mondo del lavoro gli abili al lavoro che invece sono stati anestetizzati proprio attraverso il sistema del reddito di cittadinanza. Per noi questa è la ricetta del resto quando è stato immaginato e introdotto il reddito di cittadinanza non è mai stato raccontato agli italiani che doveva essere un sussidio per tutta la vita anche per coloro i quali possono lavorare perché anche il reddito di cittadinanza aveva una durata. Noi questa durata a partire dall'anno prossimo la accorciamo, cambiamo i criteri perché è assurdo che si possano rifiutare tre offerte di lavoro semplicemente perché non sono il lavoro dei sogni. Per noi bisogna tornare a lavorare, bisogna dare la possibilità ai giovani soprattutto di essere formati e di entrare in un altro clima culturale cioè quella del lavoro che nobilita e non è invece un problema. I 5 Stelle hanno fatto un racconto completamente diverso e siamo purtroppo arrivati poi alla violenza verbale tragica, devo dire, in un dibattito politico democratico alla quale siamo arrivati nei confronti della Meloni oggi ricordo anche nei confronti di Crosetto qualche giorno fa per motivi diversi ma insomma la violenza verbale è sempre molto pericolosa all'interno del dibattito politico nel quale non dovrebbe assolutamente mai entrare. Senta, si aspetta da Conte un invito alla calma a questo punto perché lui oggi ha una grossa responsabilità perché insomma si stanno organizzando delle piazze, delle manifestazioni, allora bisogna evitare che il clima diventi... Assolutamente, Conte ha l'assoluta responsabilità di tutto quello che sta accadendo deve iniziare a parlare agli italiani dicendo la verità e non soltanto bugie non solo sul reddito di cittadinanza ma su una serie di altre questioni che riguardano questo governo e dovrebbe avere l'onestà intellettuale di placare gli animi che lui stesso ha agitato perché i toni sono diventati dei toni assolutamente inaccettabili e la responsabilità istituzionale nei confronti del Presidente del Consiglio ma varrebbe anche, se fossimo ancora all'opposizione, quindi di un leader di partito è proprio quello di portare il dibattito democratico sui temi e non soltanto sugli slogan elettorali. Senta, volevi dire qualcosa sulla polemica su Banca Italia e anche sull'atteggiamento di Confindustria? Noi abbiamo visto che ci sono state delle critiche a questa manovra su alcuni aspetti però a me la cosa che ha sorpreso è che non avevo mai visto insomma, Banca Italia e Confindustria, ripeto, Confindustria, si sono schierate in difesa del reddito di cittadinanza ben premettendo che voi non lo state togliendo. Allora, volevo chiederle se lei aveva fatto una riflessione su questa alleanza in nome del reddito di cittadinanza. Ma evidentemente anche Banca Italia e Confindustria stranamente vogliono una nazione piegata all'assistenzialismo piuttosto che alla produttività. Detto questo, Banca Italia non ha, diciamo, scardinato i punti essenziali di questa manovra quindi non ha parlato per esempio del cuneo fiscale che invece è un tema estremamente importante insomma, non ha parlato proprio dei cardini di questa legge di bilancio ha fatto delle valutazioni evidentemente politiche su alcuni temi fra i quali appunto il reddito di cittadinanza ma lo ha fatto senza portare poi dei dati noi dobbiamo sempre considerare che nel 2020 c'è stato il picco della povertà in Italia nessuno lo racconta ma nonostante il reddito di cittadinanza Quindi non è stata abolita? La povertà non è stata assolutamente abolita con questo sistema mi pare evidente e non è stata abolita perché c'è stata una grandissima dispersione di risorse e le risorse che sono state utilizzate non sono state incanalate nel modo più corretto possibile il modo più corretto possibile significa indirizzarle a coloro i quali hanno effettivamente bisogno e questo Banca d'Italia non lo ha detto credo che le valutazioni anche contrarie rispetto alla manovra e quindi al contenuto della manovra siano tutte legittime mi piacerebbe soprattutto da Banca d'Italia che provenissero più elementi di riflessione sull'impatto generale della manovra sull'economia italiana e non sulle singole misure e soprattutto che questo avvenisse sulla base di dati che invece Banca d'Italia non ha fornito quindi si è limitata a fare dei commenti a carattere generale ogni commento e ogni spunto di riflessione per noi è sicuramente molto importante continuiamo sulla nostra strada e sul nostro convincimento perché è per questo che siamo stati votati Un'ultima cosa, lei che legge tutti i giorni i giornali è rimasta sorpresa di come è stata presentata la manovra dalla stampa cioè sull'interesse sul quale è stato appuntato diciamo l'evidenza del titolo giornalistico della stampa allora lei ha trovato che, visto che se ne occupa da anni sta sempre in commissione bilancio che è stato dato un messaggio, non dico fuorviante ma comunque poco leggibile di quello che avete fatto Sì, assolutamente sì, non sono state raccontate tutte le misure non è stata raccontata per esempio la carta sociale che aiuterà i cittadini e le famiglie più disagiate non è stato raccontato l'impatto sulla sanità pubblica dei due miliardi di investimenti che abbiamo predisposto non è stato raccontato l'impatto sui lavoratori del taglio del cuneo quindi ci sono tantissime zone d'ombra non mi stupisco perché questa è la prima legge di bilancio di un governo chiaramente politico di centrodestra e quindi questo insomma non mi stupisce certo è difficile poter raccontare quello che stiamo effettivamente facendo soprattutto in tema di caro energia non sfugge a nessuno che le risorse sono state utilizzate per lo più per quello quindi questa difficoltà non mi stupisce perché insomma siamo il primo governo di centrodestra dopo tantissimi anni e quindi probabilmente insomma è naturale che ci sia il main streaming che insomma è un po' contrario a noi ma siamo preparati non abbiamo mai avuto i giornali a favore Bene, io la ringrazio come sempre grazie a Elenia Lucaselli, Fratelli d'Italia grazie a tutti grazie a tutti